Grande successo per l'anno che verrà il Capodanno Rai, andato in scena nel centro storico di Perugia. Nella notte di Capodanno, corso bannucci gremita al ridosso del megapalco, che ha visto alternarsi tanti artisti sotto la sapiente conduzione di Amadeus. Francesco Paolo Antoni e Gabriele Cirilli, protagonisti dell'ultima edizione di tale quale show, hanno affiancato il conduttore insieme alla ternana Emanuela Aureli, che ha divertito il pubblico con le sue imitazioni, oltre che guidato gli spettatori alla scoperta delle località più suggestive dell'Umbria. Sotto la regia di Stefano Mignucci, con le scenografie di Marco Calzavara, si sono alternati sul palco Umberto Tozzi, Vazzanicchi, Raffi, Ricchi e Poveri, Dargen D'Amico, Neck, Piero Pelù, Noemi, Donatella Rettore, Francesco Renga e Mattia Bazar, Sandy Marton, Tancredi e Tracy Spencer, oltre ad alcune artisti che saranno in gara anche a Sanremo 2023, come Mr. Rain, Imodà e LDA. Ma soprattutto è stato un grande successo di pubblico, con presenze record sul fronte turistico, e non solo per tutto il capoluogo, è il suo Interland.